I bantoni? Allora, basta l'applauso per Tazza della Birra. Un applauso per i bantoni. È pari, è pari, è pari, va bene. Scusa, però una cosa, quelle sono due, quindi è pari o tre che ha metà. È pari, quindi quali sono rimasti in gara? Che altre tante ci sono in gara? Premiarei quella in Zecchino d'Oro. C'è qualcos'altro? E qual'è? Però è in un altro luogo, e si parla di un'altra tazza e non è in gara. Vabbè, insomma, che ha vinto? Allora, facciamo così. Facciamo primo, secondo, terzo. E ovviamente, così. Allora, facciamo dall'ultima. La tazza Pantone riceve il regalo... Il regalone. Un prelone. Un prelone. Un prelone. Un prelone. Un prelone. Un prelone. Non stiamo pagando una certa paura, va bene? Sì, è investigativa. Un prelone. Prima, se non si trovi, va bene. Ma non ci sono problemi loro. Ma non ci sono problemi loro. Permettetemi. Ripchio. Grazie a tutti.